La vita che inizia, il primo viaggio verso casa, le prime passeggiate, la scoperta del mondo insieme al nostro bambino, è la cosa più importante che succede quando due genitori sognano il loro bambino, hanno il loro bambino e per Inglesina questo è un momento estremamente importante perché per Inglesina è la missione, far star bene il bimbo, accompagnare questo bimbo nel primo viaggio verso casa, accompagnarlo nei momenti più importanti del suo sviluppo e lo fa dal 1963, da quando questa azienda è nata e dove Inglesina ha sempre messo al centro il bambino. Per noi progettare, costruire, creare prodotti, accessori, soluzioni che possono accompagnare la crescita del bambino nel massimo comfort e nel massimo benessere è un progetto che sviluppiamo tutti i giorni, è una cosa che facciamo tutti i giorni e lo facciamo mettendoci tutto il nostro impegno e questa cosa lo fa proprio per mettere sempre di più al centro di tutto quello che è il nostro lavoro, mettere al centro il bambino e dargli veramente la soluzione migliore perché il suo futuro sia un futuro meraviglioso.